Ciao a tutti, benvenuti in questa diretta stasera vediamo un attimino che si collega stasera voglio parlare di copywriting aspettiamo un attimino se sei indifferita, manda un pelo avanti finché non ci sarà qualcuno controllo di rito e poi si comincia tra l'altro stasera ho anche direttamente delle cose da farvi leggere vado solo a vedere se ci sono dovrebbe funzionare tutto vediamo sì, eccomi qua ok, ci sono perfetto mi si vede? sì, ok perché non mi vedo nella preview maledetto software sì, però ci sono a monitor ci sono vabbè, voi scrivetemi scrivetemi se si sente mettete like fate share, parlate di me telefonate agli amici insomma rendetevi utili e non siate sempre così tirchi nel mettermi like nel fare gli share insomma non si paga è tutto gratis e soprattutto vi fa bene vi fa bene come vi fa bene bonificare strisciare la carta quando vendo qualcosa per stare meglio ragazzi fate azioni nei miei confronti possibilmente economiche ditemi solo se si sente l'audio per favore perché ho dei problemi qui con le preview ovviamente e stasera parliamo di copywriting per vendere comunque se si collegano poche persone non importa ve lo andate a vedere poi in differita ok va bene senti quando qualcuno si connette per favore mi dica se l'audio è a posto perfetto allora volevo parlarvi di copywriting ovvero l'arte di scrivere per vendere ok detta proprio in maniera sommaria a me invece piace più che altro dire che è l'arte di creare azione ma quello è quello che io dico del marketing comunque in realtà il copywriting è quello che noi sfruttiamo per persuadere le persone a vendere tramite delle parole quindi scrittura ok come si scrive per vendere quali sono le basi che devo sapere cosa devo studiare cosa devo fare insomma è facile scrivere per vendere parliamone un po' intanto spero che qualcuno si connetta nel frattempo io l'ho avvisata sta live qua ma vedo che oggi c'è poco engagement ok va bene allora come si scrive per vendere ok allora di base la lettura funziona a cascata quindi quando devo creare un testo per attirare l'attenzione del mio pubblico e soprattutto per cercare di fargli fare un'azione l'azione quale potrebbe essere lasciami la mail piuttosto che vieni affermi una telefonata vieni a trovarmi il negozio piuttosto che vieni a trovarmi il studio piuttosto che compra un qualcosa quindi il principio base è che devo attirare l'attenzione di una persona e poi cercare di fare azioni a scalini quindi a scendere quello è quello che mi piace dire quando parlo di copywriting molto spesso viene confuso il copywriting a risposta diretta come il copywriting creativo cioè una volta molto spesso si dice chi è il copy il copy è quello che scrive delle parole sulle pubblicità in realtà il copywriting è più inteso come l'arte per vendere che l'arte di scrivere per vendere non sono molto tecnico io nel copywriting nel senso non conosco i nomi a memoria di tutti i megacopi della storia ci sono persone molto più tecniche di me sotto quel punto di vista io utilizzo quello che ho imparato nel tempo ho fatto i miei corsi di copywriting le spiego e insegno copywriting scrivo insomma tutta la vita ho dovuto scrivere per vendere quello che facevo anche perché prevalentemente la mia attività si vuole online ma anche quella offline quindi in realtà ho dovuto per forza studiare copywriting alla fine ho fatto diciamo mia la cosa e non sono molto tecnico ovvero non conosco a memoria tutto quello che hanno fatto i più grandi copywriter del mondo però utilizzo le mie tecniche insegno le mie tecniche poi mi confronto ovviamente con i colleghi proprio per questo io ho iniziato la mia carriera l'ho detto nel video di presentazione ho iniziato la mia carriera scrivendo scrivevo annunci in realtà pubblicitari cioè facevo pubblicità che è un'altra cosa però va bene ai tempi come dicevo io non è che si parlasse molto di marketing copywriting si faceva pubblicità c'era meno era in uso questa parola marketing se dicevo facevo pubblicità e una delle prime pubblicità su cui ho lavorato che è andata molto bene molto forte è stata una campagna per una piccola gita in battello a Torino dove tu in sostanza venivi a un prezzo bassissimo mi sembra 7000 lire ti imbarcavi sul battello e poi dentro c'era la fregatura ti dovevi risolvere la vendita delle pentole ragazzi vi dite se sente l'audio per favore perché non ho ancora purtroppo non mi funziona bene la schermata qui davanti quindi ho bisogno che me lo confermiate intanto vedo gli share e vedo i like comunque vi stavo dicendo che ok va bene ciao Marco sono sempre sull'auto sono tornato e ti rivedo in differenza e ho lasciato la cuffietta a casa ok non mi puoi dire però se si sente l'audio va buon ci credo comunque questa pubblicità l'abbiamo fatta girare su delle riviste funzionava molto bene quindi su delle riviste cartacee ovviamente l'ho detto ieri nel video oggi guardo nella nella buca delle lettere e trovo ragazzi non ci posso credere una pubblicità simile in sostanza non so se l'ho riuscito a leggere bene ve lo metto così ok è la stessa identica cosa cioè è praticamente un viaggio ok vieni con noi vedi isola del pescatore ti verranno date delle cose in omaggio bla 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 è la stessa cosa eccezione a 19 euro poi però nel programma della giornata se vai a vedere c'è dimostrazione di prodotti esclusivi per la casa senza obbligo di acquisto ovviamente una volta non c'erano scritte queste cose perché denunce se ne beccavano di meno non so se riuscito a leggerlo e comunque mi ha fatto sorridere perché ho trovato questo allora non sto parlando di come è scritto l'annuncio perché non mi piace non è stato utilizzato un copy che mi attrae però mi ha fatto sorridere perché comunque è fatto con un criterio di attirare le persone con un'offerta che è esclusiva perché si dice eccezionale 19 euro una gita all'isola del lago maggiore bla 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 però in realtà quello che nasconde è ovviamente un'azione di marketing che è poi quello di cercare di appioparti della roba per la casa ok poi dopo pubblicizzano anche altre cose c'è comunque la licenza dell'organizzazione insomma è fatto in maniera differente però mi fa ridere perché questa cosa non la vedevo più da tanto e una volta si usava tantissimo cioè noi ne abbiamo fatte molte di queste pubblicità in copy così in sostanza il front end era ti attiriamo con una gita ma poi sotto dietro c'è una seconda venta c'è un pitch di vendita dove ti vengono proposte delle pentole lì dai ticket ovvero sicuramente lì c'è un guadagno molto più grosso quindi mi ha fatto sorire volevo parlare appunto volevo parlare di copywriting di come il copywriting può influenzare le venti anzi non può se lo farò di sicuro i copy cosa facevano fondamentalmente i copy studiavano il linguaggio delle persone la psicologia delle persone per persuaderle a fare azioni in maniera più semplice ovvero se io riesco a comunicarti in un miglior modo quello che faccio automaticamente tu sarai più propenso a fare un'azione ai miei confronti perché riesco magari a entrare più nel nella tua mente riesco a parlare la tua lingua riesco a dirti qualcosa che vuoi sentirti dire in quel momento il copywriter fa quello in Italia ce ne sono tanti in questi giorni sto lavorando anche con un amico Valerio Conti non so se lo conoscete è un copywriter molto bravo lui sono anni che si occupa di insegnare copy a moltissimi prodotti di copy adesso stiamo facendo una cosa insieme lui è molto bravo ci sono tanti altri colleghi molto bravi lui lo fa da tantissimo se siete se siete persone che hanno seguono un po' le vicende di formazione online se un po' vi siete interessati al marketing sicuramente lo conoscete lui è molto bravo e appunto in questi giorni stiamo rivedendo le pagine perché stiamo facendo una cosa insieme che verrà lanciata penso verso fine settimana poi comunque vi vi aggiorno di questo quindi cos'è la cosa più importante del copy alla fine alla fine dire ovviamente le parole che servono per persuadere le persone a fare un'azione la cosa più importante di un pezzo di copywriting è la headline ok la headline la vedete qua ripeto perché se connesso adesso non mi piace questo volantino però faceva ridere che vi ho raccontato una storia l'ho trovato in boc comunque vieni con noi sarebbe l'headline e poi questa la subì in realtà non c'è una vera e propria convenienza insomma non è fatto molto bene però per farti capire quello che attira a te in questo volantino sono sicuramente l'headline qui e la promo che c'è qua ok in realtà il concetto di copywriting come piace pensarlo a me è sempre a discese ovvero io parto a legge da qua e il tuo scopo deve essere farmi arrivare nel gradino sotto da qui deve essere farmi arrivare al gradino sotto qua da qui deve essere così e così vicendo ovviamente il volantino poi ha un'altra ha un'altra meccanica videovisuale e questo però funziona con le 6 letter con le 6 page di una volta insomma quando si iniziava con l'headline mi deve attirare si va giù a scalini questo può fare molto la differenza perché comunque io quando nello schema più semplice del copywriting che può essere uno schema pass problema agitazione soluzione è molto uno schema classico utilizzato che anche io utilizzo spesso tu trovi un problema lo agiti e dai la soluzione ok è come se tu mettessi diciamo schiacciassi la ferita a una persona per poi dargli quella sensazione di leggerezza quando molli e quella è la stessa cosa che tu devi fare con il copywriting cioè devi entrare un po' nel profondo in Italia non siamo molto abituati ai paroloni tipo americani quando si va giù secco di copywriting si gioca sulla paura si va sul pesante perché qua siamo abbastanza abituati a una comunicazione lineare per dirvi anche semplicemente i film americani sono molto più strazianti a livello sentimentale rispetto a quelli italiani che sono più piatti cioè loro ci fanno giù pesante ci fanno giù pesante anche con le 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 come dire se il copywriting si riesce a secondare o a accentuare queste paure queste passioni, queste esigenze automaticamente hai successo quindi quello che devi fare è tu sicuramente avere delle ottime nozioni di copywriting c'è un gruppo solo di copywriting che frequento io dove ci sono i colleghi più bravi cercatevelo, Copy Club di Mimio Mastonardi che tra l'altro l'avevo invitato a venire qui però mi sa che non è riuscito a leggere c'è anche Marcello che ha scritto sotto sotto il mio post Marcello Marchese è un altro bravissimo copy, anche lui ha fatto dei bellissimi corsi non so se lo conoscete però tra noi ci conosciamo non c'è problema, mi ha scritto sotto la diretta, oggi parlo di copy mi ha scritto bell'argomento niente quindi quando si parla di copywriting ragazzi bisogna saperne non bisogna inventarsi cazzate creative c'è tutto è tutto ragazzi uno schema è uno schema è uno schema psicologico basato sul comportamento delle persone la creatività c'entra ben poco la creatività sta nel cercare meccanismi nuovi ok ma sempre basati su degli schemi io vado molto a esperienza nel senso più o meno quando devo scrivere ciao Gino quando devo scrivere un pezzo nuovo utilizzo sempre gli schemi che hanno funzionato piuttosto che quelli che non hanno funzionato o mio schema mentale la creatività sta nel cambiare le parole mettere insieme parole nuove ma comunque di base lo schema rimane il medesimo poi ci sono tutte le varie combinazioni possibile immaginare ce ne sono migliaia di combinazioni nel copywriting questo qua quello là metti la promo nell'headline mettici subito il beneficio piuttosto che metti subito una promessa piuttosto che metti beneficio, promessa insomma tutte queste robe qua che puoi mettere scusate sto leggendo una roba mi sta facendo morire da ridere mi ha distratto va bene dicevo può esserci un beneficio può esserci una prova può esserci una considerazione che attira l'attenzione sul paragrafo sulla subied insomma questo è ce ne sono milioni di combinazioni ma non è tanto questo basta studiarsene più facile la cosa più difficile è attirare l'attenzione l'attirare l'attenzione è un po' lo scopo principale del marketing ovvero il marketing in sé serve per come vi dico sempre attirare l'attenzione e cercare di portare un perfetto sconosciuto a compiere azioni nei miei confronti finché non diventa un mio cliente cliente ricorrente o mio fan questo è quello che devo fare e il copywriting mi aiuta perché se il primo approccio che io faccio con il mio potenziale cliente è sui social quindi parlando di social selling la prima cosa che andrà a vedere una persona oltre a il tipo di post legge legge quello che ho scritto quindi il copywriting lì è importante poi ci sono quelli che scrivono l'headline con tutte le lettere maiuscole ogni tanto lo faccio anch'io ma più che altro per ridere non serve a molto si è connesso Valerio ho visto adesso che ha messo il like Valerio Conti lo trovate qui se volete fare qualche domanda di copia a lui fategliela pure se no poi scrivetelo dopo in differita magari vi rispondiamo lui è bravissimo uno dei migliori in Italia copywriter e lui insegna benissimo questa cosa stiamo facendo un lavoro insieme probabilmente ci sarà anche un suo inserto nella promo ciao Vale ciao eccolo qua ce l'abbiamo qua sotto se qualcuno vuole fargli una domanda prego comunque di base quello che vi stavo dicendo il copywriting è quello che ti serve nelle tue strategie per attirare subito l'attenzione perché ovviamente spesso no troppo poco buono non potrei dire molto di più tra l'altro è una vita che Valerio Conti è sul pezzo quindi in realtà lui ne sa bomba ha fatto un sacco di materiali belli le sue mail sono fichissime scrivetevi le sue liste e poi probabilmente adesso stiamo facendo delle cose insieme quindi vedrete sempre più spesso attirare l'attenzione sui social è importante farlo tramite il copy perché il primo approccio ce l'ho lì ed è soltanto un discorso di leve psicologiche comportamentali ovvero io quando devo far fare qualcosa devo persuadere una persona a fare una cosa ovviamente devo andare a giocare su dei comportamenti è psicologia comportamentale non c'è niente di più quindi attirare l'attenzione è la cosa più difficile devo utilizzare ovviamente le parole giuste al target giusto come si trovano le parole esatte da dire alle persone innanzitutto come dico sempre ragazzi dovete capire che dovete avere una grande idea un grande idea che riflette un prodotto un servizio ok se non avete una grande cosa da far vedere al vostro pubblico target possiamo usare tutte le parole di sto mondo come vedo spesso tante persone che fanno post che fanno video stringe non hanno poi niente da dare quindi tutto parte da lì dalla big idea ok quando avrete una big idea un qualcosa da mostrare alle persone sarà più facile capire ok l'idea arrivare a risolvere questo problema questo determinato tipo di persona cosa vado a scrivere per attirare l'attenzione come sfrutto il copywriting per questo ok successivamente ho fatto il mio post ho trovato il modo di attirare l'attenzione magari ho scritto un bel post ho fatto un video da lì mando il flusso il traffico lo vado a mandare a una landing page su questa landing page che ci scrivo di nuovo qual è la tua strategia cosa stai facendo come hai finalizzato la cosa cioè quali sono gli step che tu hai creato cioè sei partito dall'attirare l'attenzione di un perfetto sconosciuto di una persona che è già tua cliente dipende l'hai portato hai fatto fare un'azione bravo ha funzionato l'hai portato su una landing page su una landing page cosa deve fare questa persona deve lasciare che sono la mail deve comprare c'è tutta una serie di cose che bisogna sapere bisogna saper fare ovviamente per guidare le persone a compiere azioni e compierne sempre di più farle arrivare alle azioni massime che sono poi quelle di spendere rispendere e soprattutto promuoverci si inizia sicuramente con azioni sempre più leggere stanno aprendo un negozio stanno aprendo un negozio che vende canapa davanti al mio speriamo mi aiuti a trovare una big idea sì però secondo me se vai dietro la stazione ti danno quella un po' più forte perché la big idea che ti danno col negozio di canapa mi sembra un po' leggera e comunque ripeto serve sempre sapere l'azione che tu devi far fare alla persona e soprattutto cosa gli devi presentare non è possibile fare copyright intanto per ok io devo vendere questa gita che mi ho fatto vedere prima nel battello ok a quale scopo le persone dovrebbero leggere questa questa è la prima domanda che devi fare io devo vendere questa gita ok perché le persone dovrebbero leggere questo volantino è da lì che devi cominciare a farti la domanda non è semplice il copyright è una cosa molto complicata e soprattutto se arriva a avere un po' di dimestichezza negli anni a forza di farlo a forza di sbagliare a forza di testare chi ha fatto il mio corso lo sa ci sono degli schemi abbastanza semplici che uno all'inizio può provare a replicare non mai copiare e incollare ma copiare e riadattare però di base saprai sempre soltanto testando quello che serve per smuovere il tuo pubblico target perché ti posso dire che magari un pubblico di opportunity si che ovvero persone che sono all'incerca di opportunità è molto più facile da smuovere da tirare l'attenzione rispetto magari a un pubblico B2B tipo quello dell'odontoriatria dove lavoro io che è una sfida enorme perché loro sono molto freddi è molto difficile smuovere è molto difficile attirare la loro attenzione ci sono riuscito facendo determinate cose che vi vedete se vi andate a comprare il mio corso le anze non servono il razzo che c'è il caso studio tra l'altro a proposito domani si lancia face fast ok ci siete connessi domani alle 21 sulla mia pagina c'è il lancio di face fast lo metto qua domani ore 21 mi raccomando non mancate perché domani facciamo una bellissima lezione sui 5 step per guadagnare online sui social quindi andiamo a vedere quali sono i 5 step per fare guadagni online parleremo anche di copyright in maniera un po' più specifica stasera volevo un attimino fare un'infarinatura ok domani ve lo spiego in maniera più semplice e più specifica e poi dopo che abbiamo visto i 5 step abbiamo parlato vi spiegherò un po' anche un attimino la mia storia come ci sono arrivato a fare queste cose e vi farò vi darò la possibilità di comprare face fast lo lanciamo ok in promo e chi se lo compra tramite web ovviamente avrà un'offerta migliore e poi dopo sapete come funziona il prezzo aumenta quindi domani alle ore 21 beccatevi questo super live che sarà potentissimo dove andremo a parlare di 5 step per guadagnare online partendo dai social che è la mia specializzazione vi racconto come ci sono arrivato vi darò qualche chicca di qualcuno che sta facendo numeri incredibili soprattutto voglio che questi numeri facciate voi perché poi mi ritorna come testimonianza a me va più che bene ok quindi abbiamo parlato di copywriting oggi abbiamo detto un attimino quello che sto facendo domani si lancia quindi vi voglio le 21 tutti qua belli carichi con il caffè preso incazzati pieni di domande e soprattutto con la carta di credito in mano dai siete proprio tirchi avete messo un po' di like perché non vi vedo bene stasera pensa che oramai niente mi sfottono che io vi prendo in giro con sto strisciata carta di credito mi hanno mandato la gif in privato di baffo lo ricordate Roberto Baffo quello che quello che sospirava tipo con 200 i 200 sospiri di baffo perché sono peggio di lui sto diventando ragazzi comunque è vero nel vostro format educativo domani ne parliamo meglio che voi dovete avere per forza assolutamente dovete parlare di vendita non dovete mai 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 tirare fuori la vendita nel momento in cui le persone non se lo aspettano perché le persone poi si incazzano e hanno ragione di incazzarsi dovete sempre far capire al vostro potenziale cliente al vostro cliente che voi vendete ok non dovete fare vendite all'improvviso perché poi diventa una vendita freddo le persone si incazzano se voi fate finta che sia tutto gratuito e poi dopo un po' tirate fuori il conto non va bene si incazzano le persone si incazzano perché sembra che li ha tirati con l'inganno quindi in realtà è molto importante nella tua strategia di marketing mettere sempre chiaro che tu hai modo di vendere a un certo punto tu venderai qualcosa a un certo punto anzi devi essere contento perché sei a un certo punto chi c'è qua sotto Michele dice e se parto incazzato io in che senso Michele se parte incazzato tutto non ho capito spiegamelo meglio ma tu poi sei sempre incazzato quindi insomma come fai a partire incazzato se sei sempre incazzato semmai dovresti fermarti ogni tanto di essere incazzato ma neanche quando dormi anche quando dormi sei incazzato ok ragazzi comunque Baffo è troppo figo cioè ma voi ve lo ricordavate Baffo è bellissimo Baffo era il migliore vendeva tantissimo tra l'altro tutti i televenditori una volta ragazzi c'è gente che ha fatto un sacco di grana perché comunque quello era copy quello era copy la risposta diretta immediata cioè cerca di comprare subito c'è molto da imparare da quei video se voi ve li guardate è chiaro che tutto va riadattato al target anche alla tua personalità se tu non sei una persona che ha proprio agio con la vendita è inutile che ti metti a pressare come fa Baffo cioè voglio dire non ce la fai devi creare una vendita un po' più un po' diversa che ti rispecchia di più ma di base ragazzi vendere non è mai sbagliato davanti al cliente vendere non è mai sbagliato sapete quando è che avete timore di vendere davanti al cliente quando gli avete fatto quando gli avete fatto credere che sia gratis quando gli avete fatto credere che tanto non arriverà a quel momento lì avete paura perché vi sentite male perché sapete che prima o poi quello si incazza se invece voi partite già e fate capire che ok io ti do tutto quello che vuoi ma sappi che devi io ti venderò qualcosa oggi e se prima lo sa che vendo e meglio è è tutto diverso non c'ho non c'ho quella paura di dirti che vendo qualcosa immaginatevi voi se io facessi questi video sempre tutti questi video gratuiti senza mai tirare fuori l'argomento che vendo un corso poi a un certo punto me ne esco ragazzi c'è un corso qua e voi dite oh ma che cazzo mica mille euro invece sono mesi che vi dico che sto tirando fuori un corso da mille euro e sto già preparando cioè voi state già comprando i miei corsi più piccoli che poi toglierò è tutta una strategia questa il copy ragazzi è la stessa cosa è metterlo per iscritto è mettere tutto questo per iscritto mettere questo per iscritto nella maniera corretta nell'ordine corretto e soprattutto sfruttando la psicologia comportamentale delle persone ok l'offerta deve arrivare al momento giusto questa è una delle prime cose non può esserci l'offerta a un momento sbagliato soprattutto a freddo un'offerta a poco effetto a meno che non è un'offerta fortissima talmente forte che ok ti dà subito quel vantaggio mi ci dà devo prendere sono un coglione però di base se tu devi soprattutto se hai se vendi qualcosa ad alto margine alto prezzo come faccio io ovviamente non puoi partire con un'offerta incredibile perché non è un'offerta incredibile è una cosa ai ticket quindi per vendere ai ticket per vendere qualsiasi cosa che costa più caro bisogna utilizzare delle tecniche differenti anche nel copywriting è tutto diverso quando io vi dico ragazzi che voi dovete vendere qualcosa che abbia margine ok di alto profitto è perché ci tengo a spiegarvi queste tecniche che ci saranno nel corso perché poi voi dovete avere ovviamente in vendita soltanto cose che vi danno alti profitti oppure se avete un prodotto frontale che non vi dà margine ne dovete avere uno dietro che vi dà l'alto profitto questo è le tecniche quelle sono non pensate di poter continuare a vendere senza margine perché comunque così non va bene bisogna rivedere il business non funziona non c'è marketing che tiene ragazzi non c'è marketing che tiene se non c'avete il margine se non c'avete il profitto ROI ROAS non servono un cazzo quello che dovete avere è margine il margine è una delle cose fondamentali che tra l'altro vedremo domani sera attenzione il margine è una delle cose fondamentali e tu puoi avere l'idea più bella del mondo ok ma se non hai margine dietro soprattutto noi poveri cristiani che abbiamo quattro capre come clienti nel senso non capre interiore ma quattro capre di numero quindi siamo piccoli piccole e medie aziende non possiamo assolutamente permetterci di avere bassi margini non mi venite a dire che Amazon fa i soldi perché ha il prezzo basso perché vi spezzo le ali Amazon è stata in perdita per anni 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 e anni ok e in più ha avuto soldi 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 e sovvenzioni a voi soldi non ve li da nessuno oh c'è Valerio che dice una cosa ok leggiamo l'errore che fanno in tanti è di avere paura di vendere la chiave è non nascondere le proprie intenzioni ma facendo in una maniera genuina e dando valore in anticipo bravissimo giusto un esempio di come fare è come fai tu quel video la transizione è molto fluida non è fastidiosa poi moltissimo lo gioca anche la personalità ci sono alcuni che su video suonano molto fastidiosi pensa che io invece su video sto sul cazzo è proprio una mia non è vero ci gioco su sta cosa perché qualcuno sto sulle palle però quello che dice Valerio ragazzi seguitelo ascoltatelo andate a guardarvi sui materiali è vero non devi mai nascondere l'intenzione di vendere e soprattutto non devi avere paura perché comunque tanto noi siamo qui per questo motivo cioè tutto quello che facciamo tutte le informazioni che prendete tutto quello che studiate serve alla fine a farvi vendere cioè vendere fare grana qui si parla alla fine detta brutta di fare grana di fare spiccioli quindi non si può avere paura bisogna trovare la propria dimensione qualcosa che ci fa stare al nostro agio e dobbiamo sicuramente lavorarci sopra per dire a me viene bene viene bene parlare in video mi viene bene scherzare ho un carattere che funziona bene su questa cosa io gioco sul fatto che sto sul cazzo perché su dieci uno che mi odia lo trovo ma tanto sfido chiunque a fare un qualsiasi cosa dove si mette in gioco e trovare uno che non gli stai sulle palle quindi in realtà io lo prendo e amplifico questa cosa la gente si diverte ancora di più tanti mi dicono che dovrei cambiare lo stile e diventare un formatore classico ma secondo te ragazzi di cosa stiamo parlando di cose serie di cazzate ma secondo te io faccio quello che mi chiede una persona rispetto alle altre nove ok faccio quello che mi dice il 10% del mercato che magari neanche poi mi compra è ovvio che non ti ascolto non farò mai il formatore perché lo vuoi tu non mi seguire ce ne sono tanti altri noiosi anzi la cosa più facile è trovare formatori noiosi persone che dicono cazzate noiose quindi va bene non mi fate partire la brocca cosa dice Nadia qua? Nadia dice la capra numero uno sono io non ci provate a passarmi avanti eh no eh mai che si tolga questo primario questo primato va bene ragazzi quindi il copy è ragazzi uno strumento della vostra strategia di marketing che bisogna saper saper veramente utilizzare bene il copy vi può aiutare in tante altre cose anche nella vita di tutti i giorni perché comunque riesce a capire un attimino quale sono le le cose che attirano l'attenzione le cose che smuovono le persone voi sapete quanto guadagna un copywriting in America? uno che sa scrivere copy direct marketing cioè provate a dire nei commenti qua sotto secondo voi per scrivere una lettera quanto si prende un copy non parlo di percentuali perché tanti lavorano in percentuali provate a dirmelo in dollari tanto per farvi capire quanto è importante come disciplina qua è molto sottovalutata in Italia ne parlavamo con i colleghi con Valero anche sì pezzi copy si vendono io ne ho venduti tantissimi cioè vuol dire la consulenza su un copy quindi magari fare una pagina di vendita una lettera di vendita un volantino ne abbiamo fatti tantissimi però non c'è un vero e proprio mercato ancora invece in America c'è un mercato c'è un mercato proprio di questa cosa che in Italia o non arriverà mai oppure se arriverà arriverà molto più avanti adesso le persone che comprano come servizio il copywriting sono persone che già conoscono il copywriting perché sono persone che si sono avvicinate al marketing e quindi il copy gli è scivolato addosso non cambia niente in realtà è la stessa cosa però di fatto non c'è un vero e proprio mercato di copywriting non è una cosa così conosciuta se non una piccola nicchia di settore nessuno spara un prezzo secondo voi quanto si pigliano? Luca dice 10k 10k quello che prendo io dici tu 10k guarda allora sì può essere perché ci sono pezzi copy che valgono anche di più ma di base ragazzi di base non si muove un copy non si muove ma proprio che prenda poco proprio poco vuol dire uno di quelli che costa meno in assoluto di mercato vi prenderà 2000 dollari 2000 dollari per scrivervi un pezzo poi si va 3500 5000 10k poi dipende però di base partite dal fatto che ci vanno 2000 euro 2000 dollari scusate per smuovere un copy se io per dire quello prendo più o meno anche gli altri forse qualcuno prende di più poi io non lo faccio più molto come lavoro però di base è quello 1500 2000 euro dipende da un po' dalla lunghezza da una serie di cose in Italia non c'è la cultura del direct response è un mercato tutto educare da zero meno male che ci sei tu Valerio che lavori su questo comunque il direct response è ragazzi quello esempio che vi facevo prima ve lo ricordate Baffo lui lavorava sul direct response è subito cerco di farti fare una cosa direttamente una risposta subito una risposta diretta marketing ha risposta diretta subito e invece di fare il marketing conoscitivo non serve a una cazzo di niente ovvero metti lì la mia immagine prima o poi la gente se la memorizza quello è sbagliato vi hanno detto che è giusto ma è sbagliato infatti ecco ci dice Valerio ci sono copy che si beccano 20k a copy Gary Albert che è uno dei massimi esponenti se avete fatto il mio corso lo sapete 30.000 dollari per una sales letter ci sono copy che fanno un sacco di soldi ma qua in Italia vi posso dire senza fare nomi perché in Italia lo sapete che non possiamo fare nomi ma comunque ci sono copy che scrivono solo copy che fanno tranquillamente un centino all'anno scrivendo solo copy da solo nel loro sgabuzzino ce ne sono e non solo uno ne conosco e ne conosco ma non che vendono prodotti per imparare a fare copy attenzione persone che fanno copywriting conto terzi quindi per le aziende che ne so sei un medico vuoi andare a prendere più persone per la chirurgia estetica lui ti fa magari un volantino una lettera una sales page un qualcosa che porta che va a queste persone di scritto e si prende bei soldini perché per meno di 2000 euro un copy oggi non si muove uno bravo poi quello che vuoi vedere io mi prendo due k di labbrate grande Nadia se non ci fossi tu se non ci fossi tu ti dovrebbero inventare io l'ho sempre detto e copy bravi quello prendono comunque ragazzi cioè lasciate stare quello che vedete in giro persone che cercano persone che scrivono articoli a 10 euro articolo cioè quello non è copywriting quello è scrivere mettere parole su un testo non ha nessun senso vedete qual è la differenza un copywriter ti fa la differenza sulle vendite anche lì però c'è da dire un'altra cosa come lo sfrutti il copywriting ce l'hai una strategia anche lì tante volte io devo mandare via ho mandato via clienti perché non avevo una strategia io ti posso anche scrivere il pezzo di copy potente ti scrivo il pezzo di copy potente ma cosa vendi a chi quando qual è la strategia dove passano le persone cosa fanno c'è un un back end c'è un tele un tele selling c'è un come funziona la tua fidiera se tu hai questo mi dici questo è il bicchiere tazza più figo del mondo non è una strategia ragazzi non c'è copywriting che tiene non c'è scordatevelo cioè a quelle cose ce le arrivi dopo prima devi impostare tutta la tua strategia semplice di quelle cose che funzionano quelle quattro cose fatte bene ok quando hai una strategia quando hai un'idea quando hai un target quando hai margine dici ok uso il copy il copy ma se tu non hai tutte queste cose è inutile parlare di copywriting ma che cazzo ve ne fate del copywriting se non avete niente in mano cioè cosa fate i truffatori veramente l'annamarchi siamo seri il copywriting serve per fare cose serie non per fare le truffe ok quelli quelli sono i truffatori quelli che utilizzano il copywriting senza nessuna strategia ma anzi dire hanno già fin troppa strategia però di base quello che io voglio dirvi è che voi non dovete pensare che questi strumenti di cui parliamo qui siano la pillola magica per creare denaro no la pillola magica per creare denaro è una mega supposta che vi mettete nel vostro posteriore e lavorate e lavorate nelle cose fatte bene dovete fare quelle quattro cose fatte bene all'inizio quindi avere l'idea avere margine avere un target avere un formato educativo tutte queste cose e poi andiamo a pensare ok facciamo la sofisticazione della cosa cioè andiamo a a prendere la complicatezza il marketing sono numeri i numeri sono complicati ma all'inizio bisogna iniziare delle cose semplici ci sono persone che vendono la tazza e hanno un centesimo di margine e vengono a chiedere come fare il funnel e le alze ragazzi no non funziona così se non hai margine non fai niente se non hai idea non fai niente infatti si dice che il grande copy arriva subito come conseguenza di un grande prodotto se hai un cattivo prodotto anche il copy sarà mediocre esatto grandissimo Valerio una cosa fondamentale cioè il copy è una conseguenza il tuo marketing è una conseguenza di quello che tu stai vendendo se tu non hai una big idea io lo chiamo sempre big idea ok se tu non hai una grande idea che va a risolvere un problema soprattutto se ragazzi questa idea deve avere margine io non finirò mai mi sgolerò dovete guadagnare voi soldi cioè siamo qua per fare soldi non per perderne se voi avete una grande idea è facile dietro tirarci fuori un buon copy ma non c'è copy che può risolvere il fatto che voi avete un qualcosa di merda ok il marketing sistema le cose le aggiusta ok le migliora ma non può far diventare il babà la merda ok questo è poco ma è sicuro perché quello diventa truffa Luca dice Nadia spacchiamo Instagram con questi abiti ma io avendo banalmente abiti sono già fregata Nadia non è vero niente cioè gli abiti sono una mega commodity cosa hanno inventato perché comunque la camicia toglimi quello che vuoi una camicia è una camicia ma se con la camicia ci appiccichi sopra Gucci tutto cambia tutto cambia avere due camicie identiche se una ci appiccichi Gucci tutto cambia questo cosa significa ragazzi significa che anche lì è percezione quindi vendendo abiti sicuramente le persone hanno delle percezioni diverse rispetto a quello che si vanno a comprare per vestirsi perché se no ragazzi se non fosse così chiunque tutti i negozi tutti i negozi di vestiti di sto mondo non esisterebbero ci sarebbero solo persone che fanno camicie bianche in realtà ci sono i negozi ci sono le marche quindi se c'è questo se la gente compra se c'è mercato significa che c'è da muoversi ok sicuro voi dovete scappare quando non c'è mercato perché se non c'è mercato non c'è margine non c'è idea non c'è un cazzo lì dovete proprio scappare ok però se c'è margine se c'è mercato cioè la gente compra queste cose sì boh lì si può lavorare margine e mercato ok si può fare qualcosa si parte dal semplice sono le cose che si devono fare e poi si va a fare sofisticazione dopo ma i passaggi sono questi non possiamo inventarci niente e chi vi dice il contrario vi dice cazzate e io starò qua tutti i giorni a farmi odiare a dire le parolacce e a dire che va fatto così ok finché non venderò il mio bellissimo corso a una bella mille e poi per sentire queste cose dovrete spendere mille euro adesso ve lo dico gratis e quindi prendetevelo no scherzi a parte questa cosa delle dirette vorrei vorrei portarla avanti antonino dice il difficile è vendere prodotti di altri no assolutamente no perché è difficile come secondo te perché è difficile vendere prodotti di altri non è vero è non è assolutamente vero che sia difficile è difficile vendere prodotti di merda lo dico io perché per vendere un prodotto di merda bene devi fare una truffa questa è la verità questa è la verità che non vi dice nessuno e ve la dico io è così se l'idea è buona se c'è margine se c'è mercato se la gente già compra quello si vendono guarda Luca qua che fa affiliate marketing ti potrà dire che non è così assolutamente e vendono cavoli se vendono vendono prodotti di altri che trovi anche a volte da altre parti perché comunque è vero il mercato è veloce però si fa si fa benissimo e non è il prezzo ragazzi non è mai il prezzo non è mai il prezzo perché chiedete a Luca semplicemente vendendo due cose identiche due cose identiche ma cambiando il copia una riesce a raddoppiare il prezzo della cosa è una questione di idea prodotto cioè ovvio il prodotto deve risolvere un grosso problema deve far dire alle persone oh lo voglio subito lo voglio mi serve cioè questo è il risultato sono un coglione se non lo prendo questo è se non arrivi a quello lì diventa difficile perché se è un prodotto di merda puoi fare tutto il copy che vuoi ma se è un prodotto di merda e fai un dietro ci metti dietro una strategia stai facendo una truffa quindi di base ragazzi dovete partire che voi dovete dare cose cose buone e giuste come sono io buono e giusto buono e giusto ragazzi domani vi voglio qua oggi siamo andati avanti un po' di più a parlare di copy volevo solo farne due parole alla fine poi con questo super volantino tra l'altro 19,90 ragazzi se partecipate ci sono anche 500 grammi di spaghetti 500 di maccheroni 500 di tortiglione 500 di fusilli 500 di penne e 500 di pastina vai a casa con 6 chili di pasta attenzione 19,90 più il G la gita bevande escluse questo è stato uno dei miei primi lavori nel 1997 rendetevi conto pensate che io prendevo solo calci nel culo neanche mi pagavano la prima busta paga che ho preso ragazzi era di 800.000 lire fatevi due risate me ne davano solo 300 il resto se le teneva al capo perché non ero capace la cosa è andata avanti un po' poi però dopo ho cominciato a guadagnare un po' di più poi facevo i miei lavoretti pubblicavo gli annunci per gli altri sul business ricordate il business la rivista adesso si chiama seconda mano però una volta si facevano belle cose poi i margini erano quelli ti posso dire che è più semplice vendere prodotti di altri che tu o meglio con prodotti di altri non hai spese in anticipo sì 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 poi vabbè ovviamente allora è giusto quello che dice Luca perché hai meno rogno a vendere a vendere prodotti degli altri poi vedi per dire con l'affiliate marketing se stai stai usando una piattaforma seria come quella che usano loro quella di Marcello pronto campaign c'è il customer care già fatto tutto dagli altri quindi te non te ne frega niente devi solo ok mettere in contatto le persone cioè questo prodotto lo vendi a quell'altra persona boh l'affiliate marketing è tu prendi una cosa che vende una persona che non è tua e la metti in contatto gliela fai comprare questo è in sostanza le metti in contatto due persone un acquirente e un venditore però l'altra cosa che ti posso dire io invece è che se vuoi il controllo delle cose te le devi fare te le devi fare tu private label cioè tu crei le tue cose le tue marche io faccio i corsi faccio i miei faccio i miei corsi non c'è un giusto e sbagliato io faccio i miei corsi perché sono più personalizzabili non ne puoi trovare da nessun'altra parte riesco a dire cose che gli altri non dicono quindi posso fare un marketing differente essendo che io so quello che succede in giro soprattutto in Italia la merda che si vende per me è molto semplice trovare un angolo originale differenziante parla di social selling sono l'unico che parla di social selling ti insegno come fare grana partendo dai social sono l'unico ti sfido a trovare un altro e riesco a angolare diversamente però i corsi sono i miei è chiaro che se vendessi il corso di qualcun altro che non parla poi di quello che sto dicendo adesso stai facendo una truffa quindi non c'è copywriting che può migliorare una cosa di merda di base devi avere un buon prodotto e io preferisco farmeli piuttosto che però soprattutto nell'oggettistica quando si vende oggettistica quando si vende oggettistica prodotti fisici non è detto che vendere quelli degli altri sia sbagliato cioè o te li fai tu oppure vendi quelli degli altri sono due le cose non è che si va tanti lontani però farti tu le cose è una cosa che a me piace creare la linea ma comunque ti dà tantissimi altri problemi perché hai customer care hai un sacco di cose in più sopra c'è la personalizzazione hai fornitori non puoi sbagliare perché il fornitore poi è tosto da stare dietro invece rivendendo se la smazza qualcun altro però di base se tu vendessi cose che fai tu è molto meglio tu vendi articoli sportivi vabbè cavoli sei in un settore che vende per forza mandami la scansione del volantino per fare ma perché vuoi partecipare gita in Spagna c'è anche Budapest e non c'è risarcimento attenzione altro che quando comprate i miei corsi tra l'altro questa cosa la toglierò a breve basta basta con questi refund va bene ragazzi spero che vi sia piaciuta la lezione stasera abbiamo fatto quasi un'oretta domani sera alle 21 filiamo dentro come i missili prendetevi tempo libero ne parliamo a lungo andiamo a vedere i 5 step per guadagnare online con i social li andiamo a scavare con profondità vediamo se ci sarà qualche ospite con noi in diretta e poi a fine live vi lancio ragazzi face fast chi ce l'ha benvenga si ascolta la mia lezione chi non ce l'ha solo compri domani perché è in super promo va bene ragazzi intanto io vi saluto vi auguro una buona serata dal mio volantino vieni con noi all'isola dei pescatori tra l'altro magari adesso mi prendo una denuncia perché mi sta vedendo magari il proprietario vabbè ragazzi ho detto che il copy fa schifo lo confermo lo posso dire va bene ragazzi vi saluto statevi bene una buonissima serata ciao e avanti tutto ci vediamo domani nelle 21 ciao ciao